Un applauso a coloro che continuano a vandalizzare le locandine della raccolta fondi in programma il 18 novembre, lo affermano ironicamente gli esponenti del comitato di quartiere Ostia Antica Saline, atti incomprensibili ed inqualificabili visto che stiamo parlando di un evento benefico a favore delle popolazioni del centro Italia colpite dal terremoto. Tutto questo non ci fermerà, anzi rafforza il nostro impegno che ci è stato legalmente demandato dai cittadini attraverso una trasparente votazione popolare, concludono così i rappresentanti del comitato di quartiere Ostia Antica Saline.